Ghibri Sparfecole L'Ela, principale avversario dell'uscente Denis Sassou Nguesso, alle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica nella Repubblica del Congo, è deceduto per Covid mentre veniva trasportato in Francia per essere curato. Il candidato dell'opposizione era risultato positivo al coronavirus venerdì pomeriggio e non è stato in grado di tenere il suo ultimo comizio elettorale a Brazzaville. Il storico avversario Colella, 60 anni, è apparso quest'anno come l'unico vero rivale del presidente uscente Sassou Nguesso, 77 anni di cui 36 al potere, che non ha mai nascosto il suo desiderio di essere rieletto al primo turno di domenica. I risultati dello scrutinio non arriveranno prima di qualche giorno.